Il nostro compito è rendere l'arte parte della vita delle persone. E come può succedere? Grazie all'interazione costante. E con cosa, se non con gli oggetti di uso quotidiano, siamo in costante interazione? Grazie alla tecnica FIU da noi sviluppata, i miei quadri entrano in simbiosi con il divano. Così la vita stessa diventa un'opera d'arte. E questa è la nostra missione. FIU, fusione di interni e lavoro d'opera. La tecnica di simbiosi tra pittura e divano. Grazie alla tecnica FIU, un oggetto di uso quotidiano, trasforma la sua funzione e il suo significato. E diventa un elemento d'arte. Noi siamo gli autori di questo metodo. Il nostro metodo è una metafora dell'intregio tra materiale e spirituale. Proprio come l'anima e il corpo sono combinati in una persona. L'opera, realizzata con la tecnica FIU, uniscono arte e oggetti di uso quotidiano e sono uniche nel loro genere. Questo è amore puro per l'arte. Inoltre, il nostro metodo è la trasformazione di un oggetto da un contesto ad un altro, permettendoti di vedere le cose ordinarie sotto una nuova luce e di divenziare il significato dell'arte nella vita di tutti i giorni. La nostra collaborazione entrerà nella storia dell'arte. Questa è tutta una filosofia. L'arte ora incarna anche una funzione pratica. Ora tutti hanno l'opportunità di fare entrare nell'arte la propria vita e di farsi un'opera d'arte all'interno. L'arte ora incarna anche un'opera d'arte all'arte. L'arte ora incarna anche un'opera d'arte all'arte.